Rocky è un meraviglioso incrocio tra Maremmano e Labrador, ha circa tre anni, è buonissimo il coccolone con tutti sia animali sia cani maschi o femmine che persone. E' ospite di Gioia Romeo e si adotta nel fermano. Per informazioni chiamate il numero sotto. Grazie a tutti. Scusa, direi di metterci il pezzo, questo? Sì. Scusa, direi di mare, però faccio io. 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 Scusa, direi di mare. Scusa, direi di mare.